C'è una fuga di metano, dobbiamo entrare in casa per controllare. Hanno usato un metodo odioso, ma ormai molto consolidato, i due truffatori, finti operai della rete del gas, che intorno a mezzogiorno di venerdì si sono introdotti nella casa di un anziano di 77 anni a Maserati Padova. Con la scusa dei controlli, i due malviventi sono riusciti a farsi consegnare gli oggetti d'oro e il denaro che avevano invitato l'anziano a mettere in un posto ermetico come il frigo. Non contenti, i due e il bottino in mano hanno spinto a terra la loro vittima per fuggire. Immediata la denuncia ai carabinieri che invitano tutti a ricordare che nessun tecnico si presenta in casa senza apposito tesserino, così come nessun avvocato chiede ingenti somme di denaro al telefono. In caso di dubbi, i carabinieri invitano tutti, soprattutto gli anziani, a rivolgersi alle forze dell'ordine.